Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale. Sul canale di Cani e Gatti TV Channel sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una tv interamente dedicata agli animali e ad oggi tornassi indietro lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo e ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. Due affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia. Se il tuo gatto ti fissa con intensità potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. 4. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario se abbassa lo sguardo o sembra nervoso potrebbe essere un segno di sottomissione. 5. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnale di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche. Quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene questi erano i sette motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.